Siate misericordiosi come il padre vostro è misericordioso su queste parole dell'Evangelista Luca, si sono incentrati tre giorni di ritiro invernale 2015 targati Centro Missionario Diocesano nella Comunità Missionaria dei Saveriani di Ancona. Tre giorni che quest'anno hanno visto la partecipazione di una ventina di giovani tra animatori e ragazzi della Diocesi guidati da padre Benjamin e da padre Alberto, missionari saveriani ora in Italia. Nella prima giornata padre Alberto e padre Benjamin, dopo aver letto alcuni brani della Bibbia in cui si parla di come Dio osservi le condizioni dei suoi figli e di come si è in grado di ascoltare il loro grido di aiuto, hanno stimolato i ragazzi a interrogarsi e a capire se siano in grado di commuoversi di fronte a situazioni di precarietà fisica, materiale e spirituale e se siano in grado così di compiere opere di misericordia. La seconda giornata si è concentrata in prevalenza sull'abitare la misericordia. Infine, nell'ultima giornata, padre Alberto e padre Benjamin hanno contestualizzato le opere di misericordia nella realtà fanese e in quella in cui vivono i ragazzi facendo un invito particolare ad allargare gli orizzonti, non aver paura di accudire, sostenere insomma di aiutare chi nel mondo sta soffrendo. Per conoscere di più che cosa hanno significato queste giornate per i ragazzi abbiamo intervistato padre Benjamin, missionario saveriano. Mi porto dentro di me un sentimento di gratitudine perché sempre quando ci viene offerta la possibilità di fermarci e soprattutto in quest'anno speciale sul tema della misericordia con questi giovani così bravi, mi sembra che sia stata davvero una opportunità molto bella. Abbiamo affrontato tematiche, la tematica della misericordia per rimetterci tutti insieme con la Chiesa intera su questo cammino e scoprire cosa il Signore ci vuole dire in quest'anno. Quindi mi sembra che sia andato bene, i ragazzi hanno affrontato bene anche i momenti di preghiera personale di silenzio, di deserto, all'inizio con fatica ma piano piano hanno preso gusto. Per esempio stasera abbiamo fatto questo momento di adorazione anche per chiedere a Gesù stesso di illuminarci, di infondere in noi il suo cuore di misericordia.